Un saluto a tutte le detenute e i detenuti di questo carcere, dalle mamme in piazza per la libertà del dissenso. Noi continuiamo a sostenere i vostri diritti e le vostre lotte ed abbiamo aderito anche noi al vostro sciopero. Ciao Marina, ciao Stefania, Paola, ciao ragazze di Torino. Siamo contenti che è uscito finalmente da quel posto malvagio un po' di esempio di lotta pacifica. Sappiate che stiamo sostenendo, vi stanno sostenendo, 15 ragazze del carcere di Verona hanno iniziato anche loro a seguire il vostro esempio. Sapete sicuramente che tutto il blocco B del maschile inizierà da domani lo sciopero del carrello. Siamo qui come sempre per non farvi sentire sole, per farvi sapere che fuori c'è qualcuno che vi ascolta. Ci dovrebbe essere qualcun altro ad ascoltarvi. E sono oramai più di un anno che chiedete che qualcuno faccia qualcosa. Allora noi non possiamo che fare questo, darvi solidarietà, cercare di far uscire da lì tutto quello che ci raccontate, quello che non va bene, quello che cercate di ottenere e di stare qui, appena possiamo, a darvi la nostra solidarietà. Per questa sera abbiamo finito, ma come sapete ci rivedremo, ci risentiremo presto. Ciao a tutti e un bacio a tutti. Ciao Giorgio. Ciao Stefano.